ciao ragazzi benvenuti all'aggiornamento delle 19 allora come potete vedere oggi sto cioè questa sera sto per tagliare l'erba all'interno di questo giardino qua poi domani invece credo domani mattina perché non ce la faccio per stasera mi sposterò anche nel giardino di là quello vicino alla piscina e oggi abbiamo anche ufficialmente terminato la potatura di tutti quanti gli ulivi anche quelli che c'erano nei campi vicino cioè che ci sono nei campi vicino alla zise e in più altra notiziona super importante ma che probabilmente saprete già e mancano solamente sei giorni all'arrivo delle casette mobili mamma mia speriamo dei di riuscire a posizionarle senza troppi problemi col trattore eccetera più che altro mi fa un po dice ci sarà la difficoltà a uscire dal dal cancello lì magari dove c'è dove c'è la stradina eccetera eccetera oddio sta andando via adesso io vado a tagliare l'erba lì c'è il trattorino niente si parte adesso stavo quasi pensando di fare una live stasera non so una live al volo magari a qualcuno potrebbe interessare però il problema è che è venerdì magari tanti di voi siete impegnati che ne so magari potrei pensare invece di fare il video alle 19 a volte fare qualche live dal cellulare non so che qualità ci sia magari potrei fare una prova insomma fatemi sapere all'interno dei commenti va bene dai io vi saluto e inizio a tagliare l'erba